Sono oltre 563.000 le domande presentate da Nuclei Familiari per l'assegno di inclusione, di cui l'88% da ex percettori del reddito di cittadinanza. Sono gli ultimi dati forniti dall'Ips sulla misura che da inizio anno ha mandato in soffitta il sostegno economico introdotto dal Movimento 5 Stelle e che da venerdì 26 gennaio vedrà il via ai pagamenti. Il primo blocco è quello delle circa 450.000 domande presentate entro il 7 gennaio insieme al patto di attivazione digitale, il cosiddetto PAD. Da venerdì prossimo partiranno i primi pagamenti di quelle che hanno superato i controlli. La platea potenziale della nuova misura rivolta ai Nuclei con almeno un componente minore, disabile e over 60 o inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari è di 737.000 Nuclei. Di questi finora hanno fatto la richiesta, sempre sulla base dei dati Ips, quasi la metà che si concentra in due regioni come avvenuto per il reddito di cittadinanza. La Campania con il 26,7%, la Sicilia con il 21,8% e a seguire il 9,6% proviene dalla Puglia, l'8,1% dal Lazio, il 7,7% dalla Calabria e il 6,2% dalla Lombardia.